Cocaina a fiumi, sgominata banda di trafficanti fra Marotta e Napoli. Provincia sempre più probabile il trasloco nella sede di Banca Italia. Pesaro guarda il futuro con la casa delle tecnologie emergenti. Elezioni a Fano, De Leo il primo candidato a sindaco di centrodestra. VL presentazione a Villa Matarazzo con vista sul debutto di Brescia. Buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV. Ben ritrovati a Rossini News, il nostro telegiornale del canale 80 che in questa edizione di martedì 26 di settembre apriamo dandovi notizie di una maxi operazione a contrasto allo spaccio di stupefacenti e in particolare al traffico di cocaina. Un'operazione portata avanti dai comandi provinciali di Guardia di Finanza e dai Carabinieri che ha portato a sgominare una rete di spaccio e traffico a gestione di una famiglia di pregiudicati con centro operativo fra Marotta e la Campania. Il servizio. 11 arresti di cui 9 con reclusione in carcere e 2 di vieti di dimora nella provincia di Pesaro Urbino. Più altre 6 denunce. Questi i numeri dell'operazione denominata Affari di Famiglia che ha consentito la Guardia di Finanza e i Carabinieri di Pesaro Urbino di sgominare una banda di trafficanti di cocaina con centro operativo a Marotta e con base d'approvvigionamento a Torre Annunziata nella provincia napoletana. L'indagine scaturita con arresti e sequestri di stupefacente a fine 2022 ha consentito di ricostruire ruoli e condotte criminali di ben 17 soggetti gravemente indiziati di plurime condotte di detenzione spaccio di enormi quantitativi di cocaina nella provincia pesarese. Un traffico che aveva Marotta un centro operativo coordinato da pregiudicati campani che si approvvigionavano da Torre Annunziata per poi rifornire acquirenti di Pesaro, Fano, Marotta, San Costanzo, Acqualagna e Fossombrone. Un giro d'affari gestito in maniera imprenditoriale e quasi monopolistica sul territorio capace di rifornire alla provincia di mezzo chilo di cocaina ogni due settimane. Le indagini hanno documentato come il gruppo di trafficanti e spacciatori fosse gestito da un pregiudicato napoletano detenuto in carcere per reati di droga ma in grado di veicolare le proprie direttive anche da dietro alle sbarre. Si serviva infatti della propria compagna e di altri parenti i quali avvalendosi a loro volta di altri personaggi avevano realizzato una vera e propria azienda a conduzione familiare che coordinava lo spaccio e gestiva i profitti. Gli indagati addirittura utilizzavano i propri figli bambini per eludere eventuali controlli delle forze dell'ordine occultando cocaina anche negli effetti personali dei minori che viaggiavano in auto con i loro genitori durante numerose trasferte di spaccio. È stato anche documentato che i minori assistevano sistematicamente in casa alle operazioni di taglio e frazionamento degli stupefacenti. Un traffico ulteriormente perfezionato dall'utilizzo di schede telefoniche e veicoli intestati a prestanome. Oltre agli arresti sono stati sequestrati anche un'autovettura e una motocicletta utilizzata per lo spaccio e 81 mila euro riconducibili all'attività criminale. I nove reclusi in carcere sono ora attualmente suddivisi fra le case circondariali di Pesaro e di Napoli Poggio Reale in attesa dell'interrogatorio di garanzia che si terrà dinanzi al GIP nei prossimi giorni. Ed ora ci occupiamo della provincia di Pesaro Orbino e per essere più specifici della sua sede ovvero lo stabile di via Gramsci che da anni risulta sovradimensionato alle necessità dell'ente. Un ente che cerca dunque stabili adeguati in cui traslocare e continua ad ammiccare in particolare alla sede di Banca d'Italia collocata in via Rossini, angolo via Marsala. Il presidente della provincia Paolini e il direttore generale Domenicucci hanno incontrato il direttore della sede di Ancona di Banca Italia Maurizio Cannistraro e le parti hanno confermato l'interesse reciproco con Banca d'Italia che fornirà alla provincia tutta la documentazione necessaria per consentire di formulare un'offerta d'acquisto. Di recente in previsione di un trasferimento ad altra sede il Consiglio provinciale aveva anche approvato la variante urbanistica per valorizzare a livello patrimoniale l'edificio di via Gramsci intervenendo sulla flessibilità della destinazione urbanistica. E a piccoli passi prende forma anche il vecchio palasport di Viale dei Partigiani, futuro Auditorium Palace Cavolini. Dopo l'annuncio dei giorni scorsi della realizzazione di un supermercato nell'area food del vecchio Angar che sarà gestita da Lega Cop di Villa Fastigi, sulla facciata commerciale di via Marconi troverà spazio anche una delle farmacie gestite da Aspes, come deliberato oggi dalla giunta comunale per la gestione di uno spazio di 194 metri quadrati. E prende consistenza anche il progetto pesarese della Casa delle Tecnologie Emergenti, un progetto di innovazione che oggi ha avuto un altro importante momento di confronto a Palazzo Gradari. Prende sempre più corpo e sostanza il progetto della Casa delle Tecnologie Emergenti, un progetto che ha visto Pesaro, vincitore di un bando del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per sviluppare una delle CTS Square, una delle sette realizzate in Italia, piattaforme per far dialogare imprese, soggetti dell'i-tech, imprese che intendono investire sulla digitalizzazione dei loro processi produttivi, ma non solo. Un progetto che si avvicina a Pesaro Capitale della Cultura, ma che cammina con gambe autonome e che oggi ha avuto a Palazzo Gradari una lunga giornata di call for needs, una chiamata a quelle che sono le esigenze per gli sviluppi del territorio in questo senso. A Palazzo Gradari tante personalità, dalle associazioni di categoria al mondo delle imprese, al mondo della cultura, riunite per lo sviluppo di questo nuovo salto di qualità tecnologico. Questo è l'avvio del percorso di Open Innovation, quindi innovazione aperta della Casa delle Tecnologie Emergenti di Pesaro. Cosa significa innovazione aperta? Significa che tutti possono partecipare all'innovazione, sia le aziende, sia i cittadini, e la call for needs, quindi significa manifestare quali sono le esigenze che si vorrebbe che le tecnologie emergenti aiutassero a risolvere, è il primo passo. E poi ne seguiranno altre due, che saranno quelle per idee e per soluzioni. Ci sono tante tecnologie che qui a Pesaro verranno sperimentate sul campo nel corso del 2024, con la fortunata coincidenza dell'anno in cui Pesaro è capitale italiana della cultura, e quindi saranno anche sotto i riflettori e a sperimentarle saranno non solo i cittadini, ma anche i visitatori che saranno attratti proprio da questa concomitanza. La Casa delle Tecnologie sarà un grande supporto anche per Pesaro capitale della cultura. Ci sono dei progetti che saranno collegati, come ad esempio l'assessore Vimmini ha già lanciato la grande sfera in piazza, sarà un lavoro coinvolto anche con gli uffici della Casa delle Tecnologie Emergenti. Ci sono 17 partner del progetto che stanno lavorando e l'incontro di oggi è molto importante, perché sarà un supporto vero alle imprese del nostro territorio, che potranno digitalizzarsi e innovare le proprie imprese. Quindi è un progetto che il Comune di Pesaro si è caricato sulle spalle e dovrà seguire quindi di conseguenza tutte le imprese del nostro territorio, per quanto riguarda l'innovazione e la digitalizzazione. Stiamo preparando all'interno della Casa delle Tecnologie anche una piattaforma online che riguarda il sociale e che riguarda tutte quelle, non solo attività possono essere coinvolte del nostro territorio piccole e medie imprese, ma andremo a coinvolgere quei cittadini virtuosi che fanno del bene per la città di Pesaro. Quindi nei prossimi mesi avremo una serie di incontri con tutti i stakeholder che vogliono far parte, quindi le associazioni di volontariato, le attività commerciali del territorio. È fondamentale cogliere l'occasione di questa opportunità che il Comune di Pesaro sta mettendo a disposizione di tutta la cittadinanza, essere partecipi e dare le proprie idee. Ci spostiamo a Fossombrone dove la Regione Marche, in particolare l'assessorato alle infrastrutture, ha presentato un bando che mette a disposizione 4 milioni di euro per riqualificare le storiche mura antiche del nostro territorio, contributi che sono stati ottenuti da 11 comuni. Nella chiesa di San Filippo di Fossombrone l'assessorato alle infrastrutture della Regione Marche ha presentato i progetti dei comuni che si sono aggiudicati, contributi previsti dal bando regionale sul recupero e valorizzazione delle mura storiche. Si tratta di 4 milioni di euro per un massimo di 500 mila euro a singolo contributo, destinati ad interventi non solo di decoro o manutenzione, ma anche con le finalità di carattere sociale e culturale. 4 milioni di euro per 11 comuni marchigiani, una risposta sistemica a un problema che i comuni segnalavano da decenni alla Regione Marche, la necessità di recuperare un elemento identitario delle nostre città, dei nostri borghi, che insieme ai campanili delle nostre chiese o ai teatri storici dei nostri borghi, rappresentano un elemento in grado anche di destagionalizzare il turismo nella nostra comunità regionale. Questi 4 milioni di euro attivano anche una compartecipazione comunale che portano gli investimenti che verranno cantierati nelle prossime settimane oltre 6 milioni di euro, che non hanno quindi solo la valenza del recupero della sicurezza di alcune infrastrutture delle nostre città, ma anche una valenza di promozione turistica. Infatti i tre criteri che abbiamo scelto sono la qualità delle mura che cingono le nostre città o che fortificano la zona delle nostre città, ma anche un progetto di promozione di quel borgo, di quelle mura, di quell'elemento identitario di queste comunità regionali. Quindi un intervento particolarmente importante che in tre anni porta gli interventi diretti della regione a favore della filiera istituzionale a 90 milioni di euro. 30 milioni di euro all'anno stanziati dalla giunta Acquaroli a favore dei comuni marchigiani. Un senso di grande vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità cittadine. Ad aggiudicarsi le risorse sono stati i comuni di Mondavio, Sassoferrato, Corinaldo, Acquaviva Picena, Macerata, Campofilone, Pesaro, Cupra Marittima, Sasso Corvaro, Monbaroccio e Fossombrone che nell'occasione è stato il comune padrone di casa dell'iniziativa. Abbiamo una porzione di mura storiche proprio di fronte a quello che è il nostro museo archeologico, di fronte alla nostra piena acoteca che ha bisogno di questo restauro in maniera molto consistente e anche una porzione precaria che quindi benvengano e ringrazio la regione di averci dato questa opportunità. Il fatto di contrastare il degrado, contrastare quello che è l'abbandono è una parte fondamentale ma soprattutto verso quel percorso che tende e deve tendere a migliorare, valorizzare quello che abbiamo. Cercare di valorizzare il grande patrimonio credo che sia una delle cose più importanti sulla quale dobbiamo confrontarci. Giuseppe De Leo è il primo candidato a sindaco per quello che riguarda il centro-destra nella città di Fano in vista delle elezioni amministrative del 2024. Domenica al Cinema Masetti De Leo ha presentato il suo programma elettorale in cui propone un rilancio della sanità, promette tolleranza zero contro le baby gang e critica fortemente l'amministrazione seri. Una città bella, un luogo di cui essere orgogliosi, che attiri turisti e investitori, facendo leva sulle tradizioni e senza essere subalterni a Pesaro. È l'affano che vorrebbe Giuseppe De Leo, ex direttore generale del Comune durante le amministrazioni a Guzzi, che domenica al Cinema Masetti ha presentato la sua candidatura a sindaco in vista delle elezioni del 2024. Un candidato a forte vocazione civica, che si colloca in un centro-destra da cui però potrebbero emergere anche altri nomi di peso. Nel frattempo De Leo ha fatto la sua mossa, partendo da una forte critica verso l'affano di oggi. Una città che è ferma dopo un decennio in cui l'amministrazione ha combinato poco, e quel poco l'ha fatto pure male, e soprattutto un'arroganza, una prepotenza nel cercare di fare delle cose senza senso, dalla variante Gimara a tante altre situazioni che sono rimaste ferme per anni e sono sotto gli occhi di tutti. Un degrado da città inaccettabile e soprattutto una mancanza di visione, di futuro per i prossimi anni. De Leo ne ha fatto innanzitutto una questione di competenza. Non si può amministrare una città complessa come Fano senza avere le competenze necessarie, soprattutto nel momento in cui abbiamo delle situazioni di instabilità anche dal punto di vista finanziario. Noi sappiamo che il prossimo anno probabilmente avremo di nuovo il patto di stabilità, e quindi so benissimo, avendo fatto il direttore generale, che significa governare una città con un patto di stabilità. E poi ci sono anche altre situazioni che devono essere gestite al meglio, le risorse del PNRR, ma soprattutto anche risorse che vengono dalla comunità europea, dalla regione. Queste risorse vanno intercettate, ma soprattutto vanno spese meglio, vanno spese bene, ma avendo una visione e un progetto strategico della città che oggi non c'è. Prima di De Leo hanno preso la parola diversi sostenitori, alcuni dei quali provenienti direttamente dall'era Aguzzi, altri fino a oggi vicini alla giunta seri. Nella ringa finale sono stati diversi i temi trattati dal neocandidato, tra cui le infrastrutture, i servizi alla persona, la cultura, il turismo, ma soprattutto la sanità. L'impegno che viene messo in questo momento dalla regione, dal Presidente Acquaroli, anche dall'assessore Baldelli, è incommiabile sotto certi punti di vista. Viene vista anche, viene intervista anche la possibilità di una nuova palazzina all'ospedale di Fano, ma secondo me ancora non è sufficiente. Cioè noi vediamo un depauparamento proprio dal nostro ospedale, fermo restando che giustamente si è cercato di proteggere i presidi ospedalieri che sono a Pergalo, Urbino, ma questo non può essere ovviamente a discapito di Fano. Se siamo la terza stella del market qualcosa vorrà pur dire. Al pronto soccorso è un disastro, non so se voi avete avuto un modo di andare, è una cosa tragica. Tra gli argomenti più caldi poi c'è senz'altro la sicurezza. Cioè in questo momento noi assistiamo a una recrudescenza, diciamo così, di questa delinquenza minorile e non solo minorile, ci sono anche molti maggiorenni, che sta preoccupando, sta mettendo in soggezione tante persone, molte persone non si sentono sicure. Vediamo che c'è una situazione di degrado in cui queste formazioni, queste baby gang, chiamiamole così, fanno il loro comodo. In questo modo emerge un senso di impunità che non è accettabile. Noi dobbiamo dare sicurezza ai cittadini, fermo restando che la diversità è una ricchezza, fermo restando che quei giovani o comunque quelle sfortunate, quelle persone sfortunate che vengono da situazioni molto difficili, devono essere aiutate, reinserite nella società, ma, ho detto chiaramente, tolleranza zero per coloro che devastano, coloro che imbrattano, coloro che minacciano, coloro che insultano, coloro che spacciano. Su questo ci deve essere tolleranza zero. Il permanismo non paga, bisogna essere accoglienti, bisogna capire le situazioni che personali, di soggetti che a volte hanno bisogno di essere, come dire, reinseriti nella società, ma il permanismo che sta emergendo in questa città è assolutamente inaccettabile. Questa situazione non deve in qualche modo attecchire a Fano. Il prossimo passo, ora, sarà una conferenza programmatica con chi, con Deleo, condivide temi e sensibilità. Io veramente pensavo di fare altro, però molte persone mi hanno chiesto di fare questa scelta e io ho pensato che sia stato giusto, sia giusto dare qualche anno della mia vita per la mia città. Torniamo su Pesaro, dove il Consiglio Comunale di ieri, attraverso l'assessore Enzo Belloni, ha annunciato l'installazione di altre 30 colonnine di ricarica elettriche per auto e bicicletti in città, e facendo salire così a 80 la cifra di postazioni presenti appunto a Pesaro. Per quanto riguarda le autovetture, le colonnine sono attualmente 45 e ne verranno aggiunte altre 15. Nei giardini Nilde Iotti di via Cristoforo Colombo sul lungomare di Pesaro ha ripreso il suo posto la scultura Arim di Agapito Mignucchi a pochi metri dalla palla di Pomodoro. Una scultura riaccolta oggi dagli assessori Vivine e Pandolfi che hanno anche collocato il totem di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, a pochi metri dall'onda realizzata in acciaio corte, poggiata sul basamento in pietra e rivolta verso l'Adriatico. Domenica 1 ottobre il grande regista Matteo Garrone sarà a Pesaro, Fano e Senigallia in occasione della proiezione del suo ultimo film Io Capitano. L'opera che in concorsa all'ottantesima mostra internazionale del cinema di Venezia ha ottenuto il Leone d'Argento come premio speciale per la regia e inoltre è stata designata a rappresentare l'Italia come film internazionale alla 96esima edizione degli Academy Awards, mentre il 21 dicembre si saprà se il film entrerà anche tra i candidati all'Oscar. Garrone dunque ha deciso di intraprendere un piccolo tour domenicale tra alcune sale Acec della regione Marche dove incontrerà gli spettatori. Il primo incontro è previsto al cinema Loreto di Pesaro dove Io Capitano sarà proiettato domenica alle 16 e il dibattito con Garrone avverrà a partire dalle 18. Il secondo è al cinema Masetti di Fano dove l'inizio del film è programmato alle 17 e il terzo al cinema Gabbiano di Senigallia con inizio film alle ore 18. Mancano cinque giorni al via del campionato di Serie A di basket 2023-2024. Vediamo in tal senso le sensazioni in vista del debutto di Brescia da parte della società e della squadra della VL presentate ieri sera nella cornice di Villa Matarazzo di Gradara. Dal relais Villa Matarazzo con vista su Brescia. Sulle colline di Gradara la VL guarda con carica e ottimismo al debutto nella Serie A 2023-2024 che il primo ottobre porterà i ragazzi di Buscaglia alla palla 2 sul parquet della Germani. Per il terzo anno la padrona di casa Reanna Ranocchia ha ospitato la presentazione di una VL rinnovata ma con riferimenti saldi. L'undicesimo anno di presidenza Costa, il quinto affiancato dal gruppo Beretta e la sua Carpegna Prosciutto. Gli obiettivi non li diamo noi come sponsor ma è la società, la squadra, tutto lo staff tecnico che gli dà e cerca di raggiungerli. Sicuramente le emozioni vissute in passato sono state tante, molte, intense in tutti i modi e speriamo anche quest'anno di rivivere qualcosa di come l'abbiamo vissuto nel passato. L'esordio fuori casa è sempre un peccato ma sono convinto che anche a Brescia se ci comportiamo bene sarà una gran partita e non vedo l'ora di giocarci la prima di campionato l'8 di ottobre a Pesaro tutti insieme. Mi viene difficile dare dei giudizi oggi malgrado una pre-season conclusa, conclusa positivamente con delle indicazioni molto precise e confortanti però è sempre pre-season. Da domenica quindi ormai meno di una settimana, fra meno di una settimana avremo l'ennesimo campionato che parte, siamo pronti, abbiamo avuto qualche acciacco speriamo che si dimentichi presto e quindi ripeto siamo pronti ad affrontare questo campionato che è difficilissimo a cominciare da domenica. Come ho detto prima il gruppo è super, tutti si impegnano al massimo dal primo giorno che l'ho visto, ho bisogno che c'è una bellissima chimia tutti i ragazzi predisposti al sacrificio, per esempio adesso Scott che stava fuori per un po' di settimane e adesso sta a fare tutto per entrare in forma Gavin anche terapia su terapia per essere pronto per Brescia speriamo di essere tutti quanti pronti per giocarci la domenica. Per come abbiamo giocato queste partite secondo me possiamo dare fastidio a tutte le squadre insomma in attacco, adesso l'ultima partita siamo a quota 90 punti che non è scontato in difesa dobbiamo essere un po' più cattivi su rimbalzi, palle vaganti, dobbiamo essere un po' più sporchi, però la qualità offensiva non è male. Secondo me guarda l'impegno è molto alto e stanno facendo bene le cose sulle quali insistiamo tra l'altro il gruppo è veramente ricettivo, è un gruppo che esegue, è un gruppo che ascolta e mette in pratica con la propria esperienza dentro, secondo me siamo sulla buona strada per due motivi, uno per questo e due perché è molto chiaro, alle volte è molto chiaro quello su cui bisogna lavorare, cioè tu vai, giochi, fai settimane, fai partite, fai test e ti rendi conto bene di cosa devi fare per migliorare alcuni aspetti, quindi io la vedo come una cosa positiva. Poi abbiamo fatto bene perché al netto delle assenze non abbiamo, non ci siamo tolti dai binari come dire, della nostra costruzione, questo grazie all'impegno e grazie anche a tutto il team perché la profondità alla fine l'abbiamo avuta perché i ragazzi più giovani piano piano, 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 hanno sempre dato un contributo maggiore, questo ha permesso di non muovere troppi giocatori in mille cose, abbiamo piano piano avuto la possibilità di riprendere Valerio, di riprendere Trevon, di riprendere il discorso anche di quello che stavamo facendo, per cui da quel punto di vista ci stiamo preparando, ora dobbiamo essere pronti a fare una partita difficilissima, la si entra un pochino nello specifico di una gara, però come dico sempre, mi è capitato di dire, bisogna essere pronti alla prima di campionato, non si può essere pronti a tanto ancora. Si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News, prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che in questo martedì 26 settembre è dedicata a Gradara Ludensil Festival del Gioco che è tornato a Gradara dopo 20 anni, ve ne abbiamo parlato anche ieri nel nostro telegiornale, vedremo l'approfondimento completo questa sera alle 21.20. E poi vi ricordo l'appuntamento con l'informazione di Rossini TV che torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con l'approfondimento dei quotidiani locali che come sempre vi proponiamo ogni mattina dal lunedì al sabato. E invece si conclude qui questo nostro spazio informativo serale di Rossini News, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi.